Un improvviso capogiro, il dolore ad un arto, l'accelerazione del battito cardiaco, un rossore della pelle, uno stato d'ansia. Cosa si nasconde dietro questi segnali che il nostro corpo ci invia per manifestarci che qualcosa non sta funzionando correttamente? In alcuni casi si tratta di malesseri passeggeri di poca importanza, in altri di patologie che occorre contrastare. Nasce da qui Il tuo corpo ti parla, un libro presentato alla Red Feltrinelli in Piazza della Repubblica, in cui un'equipe di medici prestigiosi fornisce strumenti indispensabili alla portata di tutti per aiutarci ad ascoltare il nostro corpo e ad interpretare correttamente i suoi messaggi. Il tuo corpo ti parla perché il nostro corpo ci manda dei segnali e se siamo bravi e conosciamo il nostro corpo li iniziamo ad interpretare leggendo questo libro. Naturalmente il libro non si sostituisce al medico perché lì dove vediamo che c'è qualche piccola variazione nel nostro corpo di colore, della pelle, capelli che si spezzano, occhi che cambiano, la sclera diventa un po' giallognola, le unghie che assumono colori diversi eccetera, noi dobbiamo fare una sola cosa, andare dal nostro medico di base e chiedere magari una banalità ma magari qualcosa di più serio.